Scene che si vedono in un film e che a volte si dice ma sarà vero, la ricostruiranno invece purtroppo è stato drammaticamente vero e io veramente noi faremo di tutto perché si possa arrivare a capire chi possa essere stato. È stato legato ad un cartello stradale ed abbandonato, fortunatamente a notarlo alcuni automobilisti che lo hanno salvato ma adesso è scattata la caccia responsabile dell'orribile gesto. È successo ad Arezzo lungo la strada statale 73 nei pressi di un grande supermercato cittadino. Io onestamente in tanta storia che ho qui in Empa, così lungo una superstrada è la prima volta e in una maniera direi anche così crudele. Il povero cagnolino terrorizzato è stato trovato attorno alle 20 e 30 di domenica 1 novembre. Sul posto sono arrivati i volontari del servizio H24 che l'Empa svolge in convenzione con il comune di Arezzo. Gli cittadini hanno visto questo cane in queste condizioni, ci hanno chiamato e abbiamo provveduto a liberarlo tagliando la corda e portarlo in sicurezza. Il cane è stato così slegato e trasferito nel canile sanitario dove ha ricevuto le prime cure. Adesso sta bene. Era impoverito, poi dopo si è dimostrato un cane discretamente docile insomma. Ora dietro ci sarà un lavoro per farle riprendere fiducia alla corda e tutto quanto, guinzaglio e tornerà sicuramente un cane normale. E poi potrà cercare una famiglia. Sicuramente. L'associazione ha già annunciato che presenterà denuncia sull'episodio nella speranza di poter individuare il responsabile dell'ignobile gesto. Telecamere non ce ne sono per la tranquillità di chi ha fatto questo orribile gesto, però io vorrei appellarmi al fatto che c'è un numero di telefono. È il mio personale, io garantisco la massima riservatezza, aiutateci, aiutateci a far sì che questi gesti siano condannati in una maniera severa. Sulla vicenda infine è intervenuta anche Giovanna Carlettini, neoassessore ai diritti degli animali, che oltre a censurare l'inciviltà e la gravità del gesto compiuto, ha ringraziato i volontari dell'EMPA, rilanciando la collaborazione sempre più stretta tra l'associazione e il comune per i prossimi cinque anni. È pienamente d'accordo con noi che si possa arrivare a pene severe e quindi quello che sarà anche nelle sue possibilità, essendoci questo assessorato che noi abbiamo gradito veramente, di dimettere in moto tutte quelle sinergie che possano portare a condannare questi episodi.